Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix e oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui vi mostrerò due glitch che dovrebbero funzionare anche in futuro in una prossima patch, ovvero la patch 1.12 che uscirà tra una o due settimane. E cominciamo subito con il primo glitch in cui vi mostrerò come cambiare l'aspetto del vostro personaggio, come anche il sesso, i capelli, gli occhi, senza perdere nulla. Cominciamo subito con il glitch. Per prima cosa dovrete collegarvi a GTA Online dove potete scegliere qualsiasi sessione non importa che sia solo invito, pubblica, solitare, eccetera, eccetera. E quando siete su GTA Online dovete premere Start, poi andare su Online e poi su Cambia Personaggio. Sulla scritta Cambia Personaggio dovrete creare un nuovo personaggio, però aspettate, non è che dovete proprio crearlo. Quando praticamente voi cliccate sullo slot vuoto ci saranno tutte le opzioni degli aspetti e così via. Voi lasciate stare quegli aspetti perché è inutile cambiarlo, andate direttamente su Salva e Continua. Quindi mettetegli un nome casuale, così non importa che nome gli dobbiate mettere. E sulla scritta Pronto dovete premere A. Quindi quando voi avete cliccato A oppure X sulla scritta Pronto ci sarà una scritta che vi chiede di saltare il tutorial se volete. Voi cliccate una volta A, o meglio, saltate il tutorial. Quindi ci sarà un'altra scritta che vi dirà che potrete cambiare l'aspetto del vostro personaggio per l'ultima volta. Ecco, su quella scritta dovete spegnere il vostro modem, se siete connessi via wireless, oppure staccare il cavo Ethernet, come io ho fatto in questo caso. Sia su PlayStation 3 che su Xbox 360, ricordatevelo. Quindi tornerete su Single Player e sul Single Player dovrete riattaccare il vostro cavo Ethernet oppure dovete riaccendere il vostro modem. Quindi una volta fatto ciò dovete premere Start, può andare su Online e quindi accedere al vostro account Xbox Live oppure, non so come, riaccedete su PlayStation Network. Sì, vabbè, riaccedete su PlayStation Network, ecco. Quindi una volta fatto ciò, andare su Online e dovete andare direttamente su Seleziona Personaggio. E quando sarete su Seleziona Personaggio dovete scegliere il vostro personaggio principale, ovvero il primo. Quindi quando avete fatto ciò, praticamente vi comparerà la scritta di attenzione che vi chiederà se volete cambiare il vostro personaggio e lo potrete fare per l'ultima volta. E praticamente questo sarebbe il glitch. Quindi voi premete A e potrete ricambiare da capo, come volete, in qualsiasi maniera, l'aspetto del vostro personaggio principale. Ricordatevi che potrete farlo in qualsiasi momento, però ovviamente dovrete ripetere il glitch dall'inizio, se volete appunto rifarlo. Passiamo al secondo glitch, in questo glitch vi mostrerò come inserire la verniciatura perlescente sulla verniciatura opaca. Quindi una specie di verniciatura segreta, perché non potete applicare le verniciature perlescente sulle verniciature opache. Allora, per prima cosa dovete ricarvi allo Centros Customs con un qualsiasi veicolo, Poi dovete andare su verniciature, colore primario ed applicare una qualsiasi verniciatura opaca. Quindi una volta fatto ciò, noterete che le verniciature perlescente non le potrete applicare, quindi dovete andare su metallizzati. E senza mettere nessuna verniciatura metallizzata, dovete premere B oppure C, che su PlayStation 3, tre volte. Quindi una volta fatto ciò dovete andare sulle targhe e cambiare la vostra targa della macchina. Quindi una volta fatto ciò, dovete tornare su verniciature, poi colore primario e andate su perlescente. Noterete che potrete accedere alle verniciature perlescenti e quindi applicare una verniciatura perlescente qualsiasi sulla vostra verniciatura opaca. Detto questo, per favore lasciate un mi piace. Ci vogliono solamente due secondi a cliccare quel bottone blu. Lasciatemi perciò la pagina Facebook se vi va e aggiungetemi sul profilo Rockstar Social Club. Oltre che, se volete, entrate nella mia crew. È aperta a tutti e tutti i link li trovate in descrizione. Commentate se avete domande o due richieste, anche se preferirei che mi mandaste un messaggio su Facebook perché le rispondo più velocemente possibile. E iscrivetevi per altri contenuti di GTA V. Da ZWheelix è tutto, al prossimo video! E iscrivetevi per altri contenuti!